Buonasera a tutti, è un piacere eh ritrovare la nostra community dell'osservatorio italiano e sport per chi per chi già ci segue e per chi invece ci scopre per la mia volta. Oggi eh abbiamo il piacere di ritrovare eh Francesco Bevilacqua, direttore marketing eh della C Monza per eh diciamo in un'occasione eh molto gioviale possiamo dire perché c'è da festeggiare in quanto il Monza è fresco campione d'Italia della I serie A e quindi eh il tema di oggi è proprio il racconto di di questo progetto vincente del Monza capire un po' come è stata la sua evoluzione e soprattutto speriamo che Francesco ci sveli qual è la ricetta vincente, i segreti che ci sono dietro eh un un progetto e-sport così così di alto livello. Io sono Luigi Caputo, founder dell'osservatorio italiano e-sport e e quindi chiedo a Francesco proprio per iniziare eh qual è lo stato d'animo in questo momento lì eh a Monza per questa importante vittoria. Ciao, ciao, ciao Luigi, ciao a tutti. Beh siamo molto contenti in primis il nostro AD che è il grande appassionato di questo mondo poi dopo magari approfondiamo anche un po' tutto tutti questi anni che ci hanno portato a comunque a vincere questo scudetto che per il Monza è molto importante perché chiaramente eh come club di calcio siamo in serie A da due anni in tutta la storia e eh i risultati sul campo sono state due stagioni veramente eccezionali da un punto di vista di prettamente calcistico e anche dal punto di vista dell'e-sport perché eh quest'anno abbiamo vinto la e-seria e l'anno scorso da esordienti abbiamo vinto anche i super capo quindi diciamo i due trofei eh che c'erano in paglio nei due anni di di serie A della storia del Monza sono subito stati portati a casa. Esatto. La doppietta come si dice nel nel calcio tradizionale. Ehm Francesco ci vuoi raccontare un po' proprio l'evoluzione perché ricordiamo che il Monza investe negli sport addirittura quando era in serie C quindi se ci vuoi raccontare proprio qual è stato il percorso che ha portato fino alla vittoria di quest'anno. Eh sì hai detto bene ed era il duemila e diciannove. Mh nel settembre duemila e diciannove abbiamo presentato il team. Eh vuol dire che i le riunioni, le analisi, eccetera, erano state svolte addirittura nel duemila e diciotto. Quindi eh l'anno precedente parliamo di un momento storico in cui l'e-sport non era ancora così diffuso. C'erano delle squadre di serie A che avevano il proprio team. Penso al Bologna, la Sampdoria, la Roma, quelle che erano state veramente dei pionieri eh a livello calcistico in Italia però diciamo non 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 c'era ancora stata l'esplosione che poi è avvenuta eh grazie o per colpa secondo dei punti di vista della della pandemia. Eh quindi ai tempi per un club di calcio avere un team e-sport non era assolutamente una cosa normale eh investirci ancora meno eh perché poi è vero che siamo stati tre primi ad avere un club cioè di avere una divisione e-sport all'interno ma siamo stati sicuramente tra i primi e prestiamo a esserlo a livello proprio anche di investimento nel progetto. Eh il Monza ai tempi era in serie C, era la prima stagione del gruppo Fininvest ehm e vediamo nell'e-sport una potenzialità, un'opportunità per andare a coinvolgere i giovani, i giovani del territorio eh i giovani anche possibilmente a livello nazionale, a livello internazionale e anche un veicolo per espandere in maniera molto rapida al brand eh perché ovviamente un club in serie C ha una visibilità mediatica molto ridotta rispetto alla serie A anche rispetto alla serie B e il Monza aveva fame di farsi conoscere proprio anche a livello prettamente di brand awareness quindi eh anche solo il fatto di avere i colori bianco e rossi anche solo il fatto di avere una spada e una corona nel logo sono cose che oggi sembrano scontate ma ai tempi non lo erano assolutamente e il nostro AD ehm da quale grande manager che quale è stato e quale è tuttora eh quello possiamo dire essere io a presentarlo però ha subito colto questa questa grande opportunità e ha detto dai eh buttiamoci e quando la nostra proprietà dice iniziamo una nuova una nuova linea di business una nuova business unit chiamiamola come come vogliamo una nuova divisione sportiva eh la fa nel nel miglior modo possibile eh e quindi rimane negli anni ormai in rete ci sono ancora le foto e tutto di di quel giorno a settembre che nella sala stampa dello stadio presentiamo i nostri due player eh il caccio e figurino insieme a Gagliani eh avevamo fatto una presentazione alla stampa come se fossero due nuovi acquisti Robinho e Cacau o due top player a livello calcistico ed era stato anche quella diciamo il primo il primo step eh in cui già allora avevamo proprio dato però la direzione. Sì infatti vabbè noi ormai ci conosciamo quasi da quattro anni quindi eh anch'io ho vissuto in prima in prima persona tutte le evoluzioni eh del del progetto e-sport del Monza e quello che ho notato è che sempre è stata stato forte il legame tra e-sport e territorio cioè per il Monza le due cose vanno di pari passo ricordo le prime iniziative eh quando eravamo in lockdown per esempio con i tornei online e gli sponsor del del club eh oppure iniziative volte proprio al coinvolgimento dei giovani del territorio ecco e e questa forse una delle chiavi eh vincenti del della vostra visione? Non lo so perché secondo me la chiave vincente una delle chiavi è stata il saper capire ovviamente col tempo e lì il fatto di avere di essere stati di aver iniziato prima di altri ci ha dato un vantaggio temporale eh di capire proprio la distinzione di tutto ciò che è l'aspetto sportivo perché poi nel tutto il mondo e-sports ambito calcistico c'è proprio un ecosistema sportivo in cui ci sono delle competizioni, dei montepremi, delle preparazioni, delle vittorie, delle sconfitte e tutto ciò che invece era il mondo più di entertainment eh quindi tutte quelle iniziative o a favore degli sponsor, a favore della fanbase eh atte appunto a raggiungere obiettivi commerciali piuttosto che obiettivi di engagement eh e noi abbiamo sempre avuto bene in mente questa distinzione eh che poi ovviamente si creano delle delle buone opportunità anche per unire due mondi però diciamo che abbiamo sempre avuto questa questa distinzione tra le due sfere eh e devo dire che negli anni poi sono cresciute di pari passo quindi sicuramente sono legate però eh la parte sportiva veramente cioè esiste eh io io per primo all'inizio pensavo che fosse un bel mix tra entertainment sport che poi è vero però una componente agonistica nel vero senso della parola c'è ed è molto importante. Ecco magari forse secondo me è proprio questo uno degli highlight più più importanti eh che provengono da un'esperienza maturata sul campo cioè eh la distinzione tra e-sport inteso come competizione e e-sport inteso come intrattenimento perché magari tanti club invece ancora non hanno colto questa sfumatura quindi ci senti di dire proprio che c'è questa distinzione? C'è che poi è una scelta eh ognuno in base alle proprie esigenze in base al proprio scenario contesto decide su cosa focalizzarsi maggiormente eh però è importante sapere che c'è eh noi parliamo di un Monza che in questi anni di e-sport ha veramente eh raggiunto livelli mondiali incredibili perché in due anni nell'anno scorso quindi nel ventitré e nel ventuno eh arriviamo in finale della e-champions league vuol dire arrivare in finale di champions come come nel calcio sono tornei anzi ai nastri di partenza ci sono molte più molte più squadre e vuol dire arrivare a fare una partita che se vinci porti a casa un montepremio di settantacinque mila dollari se perdi di cinquanta quindi capite che diventa a tutti gli effetti uno sport in cui in un quarto d'ora è un concentrato di emozioni tattiche eh capovolgimenti di gioco e di tutto parliamo di il Monza è arrivata nel duemila e ventuno nella top quattro del mondiale per club la FIFA e World Cup eh ed è lo stesso concetto cioè sono risultati veramente fuori da ogni anche anche per noi stessi è fuori da ogni più rosa di aspettativa eh arriviamo in Serie A e in un anno vinciamo la Supercoppa e l'anno dopo vinciamo il campionato eh nel duemila e venti la prima I nazionale la prima volta che la Fidici ha fatto la I nazionale i due player che hanno vinto al torneo di selezione che poi sono andati a rappresentarla erano i due player del Monza quindi c'è una forte componente proprio agonistica e sportiva diciamo questi risultati arrivano da da una visione ben precisa quindi c'è proprio un'attività anche di scouting interno dei player eh un'attività anche di non so proprio come funziona da voi eh così come nel calcio ci sono gli scouter anche da voi c'è proprio un sistema interno per valutare i player perché ricordiamo che un altro tratto distintivo del Monza è che eh voi non non esternalizzate non vi affidate a società esterne ma è tutto internalizzato ecco secondo me questo è un altro aspetto importante da da conoscere sì è stato un percorso ci siamo arrivati eh perché nessuno ovviamente nasce imparato però come si dice dalle mie parti esatto le due parti e quindi i primi i primi anni siamo stati affiancati ovviamente da da delle agenzie di settore che ci hanno comunque indirizzato noi le dobbiamo solamente ringraziare perché comunque è un settore particolare con dinamiche che ai tempi e oggi e tuttora ha delle situazioni in continua evoluzione ogni anno il gioco cambia ogni anno l'organizzazione dei tornei cambia ogni anno possono venire fuori nuovi talenti e altri invece uscire eh quindi all'inizio siamo abbalsi ovviamente di aiuti esterni poi però anche lì abbiamo avuto sempre le idee molto chiare e in questo ci differenziamo veramente rispetto a tantissimi altri club in quanto piano piano un pezzo alla volta abbiamo iniziato a internalizzare tutti questi servizi fino ad arrivare in questa stagione già l'anno scorso in cui è praticamente al cento per cento interna la gestione sullo scouting c'è tutto un ecosistema ormai che si è sviluppato eh poi è sempre un terno all'otto io sono il primo che lo ammette cioè sicuramente un po' di fiuto ma al tempo stesso ti deve anche andare bene nell'indovinare il ragazzo quello che però probabilmente eh da noi li mette in condizione di fare bene questa attenzione che ha il club verso i propri atleti eh perché come nella prima squadra come era ai tempi del Milan i Galliani e i Melusconi come nel Monza eh in questi anni gli atleti sono messi nelle condizioni ideali per rendere al meglio sul campo lo stesso identico approccio la stessa identica logica viene adoperata per il settore giovanile viene adoperata per i team e-sport quindi magari nella fase di scouting eh si fanno delle analisi che poi possono essere accurate o meno ma vincente o meno ma quello solo dopo lo puoi capire però durante l'anno poi effettivamente i nostri ragazzi sono messi nelle migliori condizioni per pensare solamente a fare il meglio eh ad allenarsi a qualsiasi problema la società è presente eh qualsiasi risultato la società è presente quando parlo di società non intendo solo io o i miei colleghi ma anche proprio il nostro amministratore delegato lui li telefona ai ragazzi dopo le vittorie ma è capitato anche in questi anni dopo le sconfitte e quindi secondo me il sentire comunque eh una presenza così importante di un club così comunque prestigioso eh li mette nelle condizioni di eh esprimersi al meglio quello sicuramente dipende da noi. Quindi fare e-sport in casa è possibile eh ormai dopo ormai ecco sono quattro anni che dal 2020 che l'e-sport possiamo dire che è una realtà anche in Italia appunto da da quello che costatiamo eh un modello di gestione internalizzato appunto è possibile anche se la stragrande maggioranza degli altri club invece esternalizza ancora. E per curiosità quindi qual è stata la telefonata di Galiani dopo la vittoria della 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 I serie A quest'anno? Allora vabbè io e lui combinazione eravamo insieme in quel momento poi ha sentito Lucio e no è bello perché lui rimane sempre abbastanza scioccato quando lo chiama direttamente il nostro AD eh perché perché poi anche lì in questi anni abbiamo avuto una certa continuità ma abbiamo anche fatto delle scelte coraggiose perché il primo anno avevamo cambiato figurino ehm pur avendo fatto un'ottima stagione eh però comunque era stata una scelta molto coraggiosa cambiare e dopo solo un anno eh pescare un altro ragazzo da un'altra realtà da un'altra agenzia e quindi già lì eh creare una sorta di convivenza all'interno all'interno del team eh così come non è stato facile l'anno scorso cambiare dopo tanti anni tantissimi successi anche un rapporto personale molto molto forte è un top player come Caccia però lì entra veramente in gioco la società e entrano in gioco veramente gli aspetti sportivi proprio di valutazione sportiva noi avevamo visto Lucio che aveva fatto una grandissima Champions League perdendo in finale giocando un calcio incredibile a dei ritmi folli e purtroppo la riforma della IE di quest'anno non prevedeva più tornei in coppia quindi non aveva ragione di non c'era motivo di avere due player e quindi ci siamo trovati a sceglierne uno in maniera molto coraggiosa col seno di poi ovviamente magari anche giustamente però col seno di poi grazie oggi è molto facile dirlo abbiamo comunque le nostre strade con il Caccia si sono lasciate quindi sono separate quindi però c'è sempre questa grande ottica molto molto concreta molto molto sportiva. Parliamo anche un po' degli aspetti commerciali cioè dal 2000 consideriamo un po' il 2020 come vero anno di partenza dal 2020 ad oggi quali cambiamenti hai visto dal punto di vista degli aspetti commerciali negli sport sia nel club quindi da voi al Monza che in generale un po' nell'ecosistema calcistico italiano? Allora in generale vi è il trend dell'aumento dei montepremi quindi di anno in anno il dato di fatto è che i montepremi aumentano questo è buono perché comunque l'aspetto commerciale l'aspetto della sostenibilità economica del progetto è quello più debole in Italia quanto meno in Italia sicuramente ad oggi perché senza i montepremi è difficile rimanere a raggiungere il break even e il montepremio si raggiunge solo se si arriva ai top dei vari risultati quindi è un po' un ternolotto riuscire ad andare a premio costantemente ogni anno. Dal punto di vista delle aziende quello che noi abbiamo potuto constatare è che tutta la parte invece non tanto di sport che abbiamo trattato finora ma la parte di engagement di intrattenimento offre alle aziende degli ottimi touch point molto più economici rispetto al calcio dove i valori delle sponsorizzazioni ovviamente sono altissimi per fortuna. Nel mondo dell'e-sport con investimenti relativamente bassi ma relativamente modesti un'azienda può andare a colpire in maniera molto decisa e molto precisa un target ben definito che è quel target della generazione PNZ poi ci sono tutto ovviamente delle ricerche che dimostrano anche quantità di attivamente chi sono le persone che oggi seguono quel mondo lì però banalmente negli anni noi con un asset molto basico come un torneo il vecchio torneo della Play agli occhi di un'azienda può essere molto interessante. Per esempio facendo un esempio noi un anno abbiamo organizzato un torneo molto grande tutto online rivolto ai giovani delle nostre società affiliate e ovviamente il Monza come tantissimi altri club italiani ha tutta una rete di società direttanti sparsi in Italia e noi abbiamo fatto un torneo di Play riservato a queste società a cui hanno partecipato 200 ragazzi di una determinata fascia d'età e il torneo tutto il format era stato venduto a un'università online che aveva interesse a colpire i ragazzi di quella fascia d'età lì perché con un investimento relativamente basso rispetto a tanti altri canali di comunicazione e di promozione era riuscito a nell'intento di colpire quelle persone lì quindi da quel punto di vista è un asset interessante è un asset che però ovviamente tutto il sistema e noi per primi dobbiamo essere bravi nel far conoscere alle aziende. Secondo te è ancora presto per integrare l'e-sport in maniera concreta all'interno della strategia marketing di un club oppure già ci sono avvisaglie che qualcosa si muove? Allora se lo si considera come un investimento di marketing sì chiaramente quindi si dice io dedico questo budget se poi con delle sponsorizzazioni con i montepremi riesco addirittura a dare break even addirittura a fare degli utili ben venga però se il club o comunque il team lo lo battezza come strumento di marketing per colpire i giovani per esempio ben venga. Se lo si deve considerare come asset commerciale quindi come fonte di ricavo la strada è ancora abbastanza in salita che poi non vuol dire perché noi in quattro stagioni due questa è la quinta e due su quattro siamo riusciti ad andare inutile però appunto come dicevo prima siamo dovuti arrivare in finale di Champions League in finale del mondiale cose che ti possono capitare come no è abbastanza giusta o quanto meno diciamo che in questi anni tutta quella parte di awareness di far conoscere questo settore è andata avanti in maniera abbastanza liscia spedita c'è un'ottima copertura mediatica la serie A ha fatto tantissimo la serie B ha fatto tantissimo parlo ovviamente di calcio anche l'LND e la serie C e la Lega Pro hanno fatto i loro campionati quindi diciamo da parte delle 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 leghe dei club la strada è stata gli sforzi sono stati veramente tanti a livello invece di coinvolgimento dei tifosi della fan base cosa cosa noti quello è uno delle cose più degli aspetti più interessanti perché dopo cinque anni posso mi sento di dire che il link non è così diretto non è assolutamente detto che se io tifo il Monza calcio tifo anche il Monza eSports anzi ci sono degli avid fan che addirittura non sono interessati o anche o addirittura criticano e questo è una cosa abbastanza anche normale se vogliamo nel contesto italiano quindi è un bel secondo me lì c'è tanto da lavorare ancora tanto da studiare perché in alcuni paesi come in Olanda sono riusciti a creare un link tra il tifoso di calcio e tifoso eSports quindi probabilmente una strada c'è è chiaro che il tifoso italiano è molto affezionato è molto tradizionale quindi non so quanto può interessarli che il Monza abbia vinto la Isseria deve andarlo a colpire in quelle corde se lo si vuole fare in quelle corde che lo appassionano anche nel mondo del calcio le rivalità le vittorie il novantesimo è lo storytelling più molto più sì molto più calcio come quello è l'obiettivo è perché io mi pongo anche la domanda è quello che cerchiamo non lo so dal momento in cui tu hai già una fan base che ti segue per il calcio l'e-sport ti serve per consolidare quella fan base o per allargarla probabilmente più la seconda la seconda esatto quindi però ognuno poi ovviamente fa le sue scelte le sue valutazioni infatti se dovessi delineare non so tre ingredienti chiave che vi hanno permesso comunque di sviluppare un bel progetto che come dicevi alla fine non è totalmente in perdita quali quali sono tre concetti proprio chiave abbiamo abbiamo detto una visione molto nel nostro caso molto sportiva molto legata all'aspetto agonistico la gestione interna anche quello è sicuramente un fattore determinante e poi la volontà della di tutto il club di crederci di non farlo perché si è costretti di non farlo dando le chiavi del progetto degli esterni quindi sicuramente la guida dalla casa madre da tutta la società ma ma vi garantisco che capita spesso che ci ritroviamo a vedere le partite qui da noi allo stadio con tutti i colleghi del Monza ma anche segretario generale gente che lavora nel settore giovanile è capitato e ci trovassimo 30 40 persone a vedere il team che gioca alla playstation che se uno ci pensa e ti fa capire tanto di quanto tutto il club ci creda in questo progetto insomma sì infatti anche secondo me una chiave fondamentale soprattutto nei club di calcio è il coinvolgimento di tutta la struttura quello che noto io per esempio come osservatorio è che di sport viene ancora considerato come un oggetto estraneo come qualcosa che noi dobbiamo fare solo perché ce lo impongono e quindi questo molto spesso crea anche proprio dei problemi a livello di gestione e divisione invece un approccio integrato come quello che ci racconti sicuramente è il primo passo per partire bene per far sviluppare tutto il resto se non c'è all'interno del club una cultura aziendale che comunque abbraccia l'e-spot come parte integrante è evidente che poi non si possono pensare neanche gli sviluppi sì sì però detto questo io non biasimo nessuno e se perché ognuno credo che debba lavorare con il contesto interno esterno che a disposizione quindi se ci sono club che la vedono così come qualcosa che devono magari fare che a cui non interessa avranno i loro motivi per crederlo non ci vedo nulla di nulla di sbagliato insomma poi invece nel nostro contesto di una società in crescita molto anche molto rivolta ai giovani perché l'obiettivo del club in generale a prescindere dagli sport è quella di creare una legacy una una generazione di tifosi che poi tifi monza il futuro quindi lavoriamo sempre da sempre molto sui più piccoli e quindi in un contesto del genere gli sport si presta bene ci sono altre piazze che non hanno hanno altri obiettivi e prossimi scenari cosa cosa vedremo nella prossima stagione a livello di sport è sempre una grande incognita infatti bisogna anche saperci sguazzare in questo nel mondo competitivo perché l'anno scorso la fine della licenza tra iei e fifa ha segnato veramente un punto di svolta eh lo scenario competitivo in questa stagione era totalmente diverso da quello della stagione precedente eh in cui nel mondo iei si è data alla centralità i club di calcio tant'è che non ci sono più tutti i vari tornei ufficiali organizzati durante l'anno ma quest'anno di fatto abbiamo avuto solamente la serie a e poi ci saranno la la Champions League eccetera però eh hanno rivoluzionato veramente tutto lo scenario competitivo e e quindi vediamo come cosa ci aspetta il prossimo anno eh una cosa bella e brutta è che non è come il calcio che noi oggi sappiamo le date del prossimo anno quali coppe qual è eh e veramente sono modifiche quasi di mese in mese eh però possiamo confermare l'attuale passetto voglio dire confermato dopo questa vittoria beh sì anche perché Lucio era chiamato a migliorare un terzo posto l'anno scorso quindi quindi non avesse chiuso terzo probabilmente ma questo fa comunque capire ecco lo spirito perché comunque come dicevi prima c'è uno spirito sportivo nell'e-sport così come nel calcio bisogna sempre migliorare no rispetto agli anni precedenti un terzo posto voglio dire comunque in questo contesto è già un grande risultato però già il mindset di dire bisogna migliorarlo la dice tutta sulla filosofia del club quindi questo sicuramente è un punto bellissimo a vostro favore e io ti ringrazio Francesco siamo arrivati quasi alla conclusione eh è stato molto interessante conoscere anche un po' il dietro le quinte anche con un po' di colore del del progetto e-sport e ti ringrazio molto e vabbè noi avremo sicuramente modo di di riaggiornarci eh e speriamo di poter essere qui anche l'anno prossimo a commentare un'altra vittoria speriamo grazie Luigi grazie come sempre grazie a tutti alla prossima Grazie a tutti.